C'è una sola cosa che noi laici possiamo fare nei confronti dei cattivi pastori di cui parla Sant'Agostino e di cui parla la Sacra Scrittura. Resistere. Siccome purtroppo non è più di moda quello di prenderli, buttarli giù dalla finestra o di impalarli o di bruciarli vivi, coprirli di pece e di piume, non è più di moda. Vabbè, è una questione di moda. Possiamo fare un'altra cosa. 1. Ignorare quello che insegnano, perché insegnano delle bestialità, delle eresie, cose che non conducono la vita eterna ma conducono al piano di sotto. 2. Resistere alle loro malefatte. Un esempio è la nuova Bibbia della Conferenza Episcopale Italiana, traduzione 2008, un mucchio di carta da macero. Non perché la Bibbia sia carta da macero, ma perché quella ormai non è più la Bibbia. L'hanno così infarcita dei loro errori dottrinali, così gravi da essere ormai irreparabili, che quella va buttata dall'immondizia senza proprio tema di fare qualche cosa di sacrilego. Sacrilego è stato farla quella Bibbia, che non è una Bibbia. Il mio grande progetto è quello di fare una nuova Bibbia tradotta bene, fare veramente una Bibbia cattolica che non sia rovinata da queste bestialità. E vedrete che prima o poi, se il buon Dio ci aiuta e se voi mi aiutate, ci arriveremo. Ma anche nella liturgia. Nella liturgia hanno messo il Padre Nostro del diavolo, con quella traduzione che è veramente oggettivamente, gravissimamente erronea. Ma può Dio pretendere che noi facciamo in una preghiera così importante come il Padre Nostro, la preghiera che lui ci ha insegnato, ce l'ha trasmessa come un tesoro, come una perla, infarcirla di questi errori così gravi? No, non è possibile. L'altra domenica ho avuto la gioia di andare in chiesa e, in una chiesa dove evidentemente ci vanno delle persone per bene, persone che sono ben formate cattolicamente, io non ho sentito la voce del prete nella recita del Padre Nostro. Evidentemente lo faceva a bassa voce. Ma ho sentito l'assemblea. Nessuno che abbia detto abbandonarci o bestialità di questo genere. No. E non ho neanche sentito fratelli e sorelle, che è uno sbaglio in italiano gravissimo, perché fratelli include anche le sorelle, perché il maschile in italiano studiate include anche il femminile, quando ci sono tanti. Cioè, ci sono maschi e femmine in una classe? Cari studenti, studenti e studentesse. È ridicolo. Altrimenti fra un po' arriveremo, come sono arrivati in America, di fare anche il passaporto con la X, perché uno può dire, no, ma io non sono né maschio né femmina, come se fosse possibile non essere maschio o femmina. Ma arriverà qualcuno che dirà, ma io non sono né maschio né femmina né X, voglio essere Y. E un altro, arriveremo alla Z. E quando saremo arrivati alla Z, vorranno qualcosa di più. Qualcosa vuole il riconoscimento, che è anche giusto, di essere unico e irripetibile. Certamente che siamo tutti unici e irripetibili, ma non possiamo fare una rappresentanza parlamentare per ciascuno di noi, altrimenti dovremmo andare tutti in Parlamento. No, c'è il partito di quelli così e va bene il partito di quelli così. Però non ci possono essere 60 milioni di partiti in Italia, tanti quanto sono i cittadini. È ridicolo. E quindi, attenzione, anche certi sbagli oggettivamente della Chiesa di infilare dentro la liturgia addirittura il politicamente e l'ecclesialmente corretto, noi come daici abbiamo il dovere di non seguirli. Recitano il Padre Nostro sbagliato? Vabbè, io non lo recito così. Io dal momento in cui hanno ficcato quel Padre Nostro cattivo in liturgia, lo recito sempre in latino, a bassa voce, non voglio disturbare, non voglio fare scandalo, perché la verità fa scandalo, come ben sappiamo. Però io con quella roba non voglio avere a che fare. Fratelli e sorelle, ma nemmeno Bersogno, io non lo dico quelle robe lì. Vogliono far fare delle cose che sono oggettivamente contro la mia coscienza, io non le faccio. Allora dobbiamo resistere e guardate che vinceremo noi, vinceremo noi, perché questi sciagurati, dicono che perché viene dal popolo di Dio, dal basso, vogliono una chiesa che viene dal basso, le comunità di base, tutte queste sciocchezze e il sinodo. Sono bugie madornali, chi ha sempre il popolo in bocca sta mentendo, come i comunisti. Il comunismo non l'hanno fatto le persone, non l'ha fatto il popolo, lo hanno fatto una piccola elite che ha usato il popolo come mandria, poi da mandare al macello peraltro, eh? E così nella chiesa la stessa identica cosa. Chi ha sempre in bocca il popolo di Dio è perché vuole fare quello che ha nella sua testa baccata e malata. No, il popolo di Dio siamo noi, che vogliamo quello che la chiesa ha sempre fatto e le novità, no grazie, tenete bene per voi e andate al piano di sotto dove vi meritate.